Una location straordinaria per presentare un evento straordinario? Un evento importante, il secondo festival in Italia per età, la 65esima edizione è un festival costruito per dare una prospettiva molto più ampia un festival internazionale con oltre 70 titoli, con tante anteprime mondiali, tante anteprime nazionali tanti ospiti da Nicole Kidman, Giulia Ormond, Bruce Beresford, Octavia Spencer, Richard Dreyfuss ad Oliver Stone, presidente di giuria, ci sarà la giuria documentari, la giuria future dei film in competizione ci sarà il center stage, un campus che darà la possibilità ai tanti giovani di avvicinarsi a questo meraviglioso mondo quindi avere gli addetti ai lavori a stretto contatto abbiamo ripreso i premi istituiti da Rondi nel 1970 abbiamo il nostro maestro orafo Michele Affidato che curerà la realizzazione di questi meravigliosi premi dalla maschera di Polifemo al premio Cariddi insomma abbiamo costruito un festival per tutti per avvicinare il più possibile la gente al cinema e far vedere delle opere che difficilmente si ha la possibilità di vedere 65esima edizione del Taormina Film Fest un festival internazionale del cinema un festival che ha pensato al maestro orafo Michele Affidato per la realizzazione dei premi sì, un festival importante, un festival che mi vede protagonista con la realizzazione dei premi e questo veramente mi fa piacere poter legare il mio nome a questo fantastico evento alla città di Taormina, al mondo del cinema, al Taormina Film Festival per l'occasione, il secondo anno consecutivo che realizzo il Taormina Award per l'occasione ho realizzato gli otto premi alla carriera del Taormina Award che consiste in una scultura dove ho raffigurato una pellicola cinematografica e poi la moneta dove è stato inserito il toro, dove prende il nome della città di Taormina e ho realizzato anche i premi per il carri di d'oro e il carri di d'argento che viene dato premi alla professionalità e poi anche alla maschera di Polifemo quindi anche altri premi che quest'anno si aggiungono a quelli diversi che ho realizzato lo scorso anno e consistono in un basilio d'argento con foglia oro sì, innanzitutto c'è appunto questa edizione molto bella perché è un anno che si lavora, questo significa programmazione la programmazione paga sempre questo penso che debba suggerirci di chiudere il 6, il 7 di luglio e immediatamente partire almeno con una programmazione triennale l'altro elemento è che la città questa volta viene coinvolta avremo particolari addobbi, particolare coinvolgimento del centro storico perché vogliamo sottolineare il fatto che Taormina diventa protagonista Taormina città, protagonista anche del suo festival e questo viene sottolineato dalla proiezione fatta il primo giorno, il 30 di giugno di un film girato a Taormina, interamente a Taormina, esattamente 100 anni fa e poi quando si vede in un film giudice, a付zare il un film girato lo videos è un film giudice di tagliare il 3, per il giudice di tagliare il dawgge